Sorpresa, sorpresa, oggi non siamo fuori perché fuori è un po' grigio, quindi abbiamo pensato che tanto non c'era niente oggi da far vedere di bello fuori. Buongiorno amici di Cioccomo, ben ritrovati, continuano ad arrivare cose pazzesche qui, ma oggi siamo qui perché vi vogliamo parlare di una tradizione che c'è per San Giuseppe. San Giuseppe, la festa del papà e allora ci sono i tortelli di San Giuseppe e io ho detto proviamo anche i tortelli di San Giuseppe, eccoli qui cari amici i tortelli e poi ci sono anche le zeppole ragazzi, c'è di tutto Cristina, Loredana, Giuseppe, Cristina, buongiorno ragazzi, oggi è un dolce risveglio qua e lo facciamo con gli amici di Non Solo Dolce. Ciao Matteo, ciao Roberto, buongiorno, buongiorno, perché ormai, ecco, è la festa del papà, Nicola, Giuliano, anche Agnese, buongiorno ragazzi, Guten Morgen, caro Dario, un saluto anche a Simona, oggi all'interno Simona, Erinea, buongiorno, Pia, anche Loredana, ecco, Antonia, è un dolcissimo risveglio, oggi è San Patrizio, baciotti a te, Rosanna, Maria Cristina, Cristina, ecco, sono buonissime, adesso ci facciamo spiegare da Matteo e Silvana, che è proprio qui di Albate, buongiorno a te, a Giorgio, a Marina, è un dolce risveglio oggi, Maria Rosa, anche perché è fuori, adesso facciamo, è grigio, è tutto grigio, adesso non si vede, ma oggi non c'era niente da far vedere. Ciao Orazio, ciao Cinzia e ciao Valeriana, ma anche a Lori, come, perché la tradizione di San Giuseppe, caro Matteo, dice i tortelli di San Giuseppe, che sono questi? I tortelli di San Giuseppe derivano dalla tradizione milanese, dove il dolce, appunto, il tortello veniva fatto, come insegno di buon augurio per un anno. Vengono presi e buttati nella friggia, è giusto? Sì, allora il tortello nasce come un impasto simile a quello del bignè, a differenza che il bignè viene cotto in forno e invece questo viene messo nell'olio e fritto, e poi è riempiti, è gustato con la farcitura di crema. Esatto, certo, non vale, dice Cinzia, ciao Mimma, complimenti, ciao Laura, buongiorno Corrado, Tania, buongiorno a tutti, Rita, sono tutti invidiosi questa mattina, non vale. Cristina, Walter, Lara, Antonia, Gnam Gnam, Rossella, Roberto, Luisa, Lasciura Orneella, se vai avanti, sono già aumentato, Enrica, Monica, Sandra, Clara, Buongiorno, Mimma, Ennio, Dora, quanta gente oggi è San Patrizio, Cecilia dalla Svizzera, sono fortunato, sono fortunato, quindi per San Giuseppe la tradizione, ecco, però le zeppole invece? Le zeppole invece sono queste? Arrivano dalla tradizione napoletana, anche questa pasta simile al bignè fritta, e poi viene farcita con la crema, anche qui ci si può sbizzarrire con gli gusti, sono amarene. Amarene, amarene, amarene. Ecco, Pietro, buongiorno da Nocera, quindi è una tradizione campana, sei sempre al posto giusto, mi dicono, è certo, ovviamente, Katia, buongiorno, anche a Dattiglio, oggi Katia era brutto fuori, ho detto, ma no, non c'è niente, giusto Roberto, buongiorno Roby, lui è il maestro di pasticceria, senza offesa per Matteo, il grande, grande protagonista. Un resettata. Però sei bravissimo, sei bravissimo. Ci difendiamo, dai. Allora Roby, non fare indigestione, no, no, tranquilli, tranquilli, vi ho solo spiegato la tradizione di questi tortelli di San Giuseppe, che sono buonissimi. Sono buoni e appunto c'è la possibilità di variare il gusto, oppure anche con l'uvetta, dipende da ogni regione alla sua tradizione. Eh, variabile. Noi, noi, ecco, noi preferiamo riempirli con la crema, o pistacchio, cioccolato, nocciola, quello che si può molto mettere. Oh, poi qui c'è anche il box, se volete. Allora, ci chiede la nostra amica, ma come si chiama, Cristina, ma come si chiama questo posto? Dov'è? C'è l'insegna da qualche parte. Eccolo qua, non solo dolce. Eccolo qua, fallo vedere. Non solo dolce, eccolo qua, perfetto, no, loro sono degli amici, quindi ad Albate li trovate. Ciao Laura, buongiorno, nome della pasticceria, Laura, eccola qua, eccola qua. Non solo dolce, lui è Roberto, il titolare storico, ovviamente, quello che ha dato il via a tutto sto benedio. Poi però Matteo si difende bene. E la stazza c'è, la stazza non manca, quindi. Ciao Valeria, un saluto ancora anche a Giuseppe, a Cinzia, Giacomina, Cristina, Marco, Augusto, Samantha, buongiorno, un saluto alla Sciuronella, che bontà, Cristina, Tassegulus, eh certo. Ragazzi, qua veramente siamo nel regno della golosità, assolutamente, se uno qua ha problemi non può venire, perché assolutamente. Buongiorno a Ingrid, a Loredana, alla mia... Molti sono dietetici, dai. Ah certo, dice ok, non la conoscevo. Vieni Laura, vieni. Ciao Katia, buongiorno. Roberto, i suoi dolci sono buonissimi. Ciao Mimma, ciao Orazio, Cristina, Valeria, ma che bontà, ciao Francesca, Cinzia, buongiorno. Cosimo, un salutone anche a te, ad Agnese, ingrasso solo a guardare... Allora ti faccio guardare, guarda che roba. Ciao Anna Maria, ciao ad Antonia, colesterolo. Giorgio, colesterolo... Pocchi ma buoni, pochi ma buoni. Come pochi ma buoni. Sono tanti, guarda qua. I tortelli della tradizione di San Giuseppe, perché San Giuseppe è sabato, la festa dei papà, e mi festeggio da solo in anticipo. Ciao Cristina, buongiorno a Stefania, Vincenzo, Tyson, Martina, Augusto, buongiorno anche a te. Poi saluto Stefania. Chi le vuole più leggeri le facciamo anche al forno, per esempio. Così rimane un po' più delicato. Mi prendi giro, chi le vuole più leggeri le facciamo. Ciao Cristina, ciao Cosimo, Stefano, Loretta, mi fai venire la colina. Simona, buongiorno, gli ho provati i pasticcini, dice sono buonissimi. Ciao Denise, ciao anche all'assessore Negretti. Buongiorno, assessore, oggi un dolce risveglio. Va come sei attivo. Buongiorno ragazzi, buongiorno a Caterina, Elisabetta, Stefano. Sono tantissimi i nostri amici. Buongiorno, buongiorno a Ciaocomo, ci sei anche tu a Ciaocomo al mattino? Siamo collegati con Ciaocomo. Bene, benissimo. Tu e mia moglie siamo collegati con Ciaocomo. Mi fa piacere, mi fa piacere. Mi servono tre caglioni, ci servono tre con cioccolato. No, ci sono, ascolta, ci sono i tortelli, i tuoi tortelli di San Giuseppe. Tre con cioccolato e due lisci. Ok, va bene. No, poi faccio anche il commesso. E questa è la pasticceria che c'è a Como. Lo dici convintamente, mi sento. Cerchiamo di gusto, non è merito. Bravo, bravo, bravo. Che dolce inizio di giornata. Ciao a Mari, ciao a Pietro, a Marcello anche. Un saluto a te Marcello, a Maurizio. Ragazzi, adesso, ciao a Paola da Ferrara, a Jack. Buongiorno ragazzi. Oh, abbiamo parlato di sta tradizione, ma scusami, li possiamo anche provare. O le zeppole o le tortelli. Dobbiamo inviare. Allora, ciao Michele, Luigi. Zabaglione. Mario, buongiorno. Almafe, Tamafe, Vigni, Famma. Buongiorno. Eh, lo so. Zabaglione. Zabaglione, va bene. Graziella, che risveglio ragazzi. Ecco, allora, io lo mangio perché non si può non mangiare. È San Giuseppe e c'è la tradizione di mangiare il tortello. E chi mangia da solo non dico nient'altro. Me ne serve uno. No, te lo do. Bisogna mangiare in compagnia. Mangialo, mangialo te. Perché c'è mia moglie che poi lo vede. Eh, fa niente, non si arrabbia. Ciao Michele, buongiorno. Il cioccolato è due lisci. Un caro saluto anche a Nello da assaggiare a Cinzia. Buongiorno a Isabella dalla Francia. Buon appetit, mi dice in francese. Buongiorno, bonjour. Che delizio. Cioè, la ricarica. Uno glielo ho dato, ma giustamente. Vediamo un po'. Qualche sono, Marco? Uno, due, due, cinque. Con lo zavaglione è qualcosa di meraviglioso. Lo so che non è professionalissimo, però vabbè, volevo assaggiarli. Buongiorno a Paola, Katia. Devi provare tutto. Eh, lo so Katia, non è tutto. Guarda che roba. Un sacchettino. Non si può fare tutto assolutamente. L'assaggio in diretta. Fatto. Silvara, assaggio in diretta. Si sente anche. Adesso salutiamo perché non sta benissimo, dai. Però, devo dire, meraviglioso. Dolores, oggi sono dieci gradi, sei al caldo, ma ti capisco. Dice, non ho capito dove si trova Roberto. Ecco qua. Ciao, grazie, grazie. Buongiorno, ciao a Silvia, a Virna, a Anna Maria. Ecco dove si trova. È ad Albati, via Sant'Antonino. Eccolo qua. Perfetto. Non solo dolce. Se lo merito, non sono degli amici. Assieme anche all'altro amico Roby, il focacciaro. Ciao, ciao Roby. Di via Borgovico. Buongiorno Roby. Ciao. Virna, bonjour al surmarco. Grande golosone. Certo. Va bene. Abbiamo... Eccolo qua. Qualche roba. È buonissimo. Quello zavaglione è una cosa. Porto dove voglio, anche li mangio per strada. Ciao Rita, buongiorno. Ragazzi, un dolce risveglio oggi. C'è anche appunto l'assessore che ci stava guardando prima con un po' di invidia. Va bene. Grazie di questa, come sempre, puntata magica quando veniamo qua da voi. Ciao anche a Kate, buongiorno. Siete pronti con le colombe? Guardate qua. Ci siamo. Ci sono già anche le colombe? Ah, ecco, ci sono già anche le colombe. Guarda, guarda, quello al cioccolato. Sì, quello al cioccolato è qua, guarda. Eccoli qua. Mary, c'è quello al cioccolato, c'è quello col cioccolato bianco. Poi c'è questo con lo zavaglione. E questo cos'è? Ah, crema pasticcera. Bravo. E poi c'è la zeppola. Eccola qua. La colomba, c'è anche la colomba? Sì, ma è un po' presto, eh. Eh, ma ci siamo. Mi sveglio presto per vedere anche le dirette quando sono a riposo. Dice, ma oggi hai esagerato. C'è anche la colomba. Basta, basta, se no impazziscono tutti. Va bene, Roby, ti faccio tornare di là nel tuo regno. Grazie a tutti, buona giornata. Buongiorno, grazie. Provali tutti. E allora, buon San Giuseppe in anticipo. Noi lo facciamo perché oggi siamo qua e ne abbiamo approfittato. Con i tortelli e con le zeppole. Tradizione da rispettare. Noi, caro Matteo, l'abbiamo rispettata. Ciao Elisa, buongiorno. Grazie Matteo. Grazie a voi. Buongiorno a tutti, buona giornata con questi dolci della tradizione che qualcuno doveva pur provare. Mi sono sacrificato per... Mi odiano tutti. Ciao Dado, Katia, Sergio. Domani, ciao Teresa. Promesso che domani mattina torno di nuovo in strada. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti.